Noi abbiamo messo quasi a 5 Abbiamo fatto 5 viaggi, siamo andati a 100 Abbiamo fatto 100 brand oggi 100 brandini Mi dicevano che la Corce Rossa non si ferma Ma non si mangia, non si dava Cosa vuoi fare? Andare a C Vuoi andare a C o vuoi andare là? Vediamo se vuoi andare a C Vuoi farti viaggio con loro? Sì ma io te no Tornate indietro poi qua No vengo a prenderti io Ma puoi tornare indietro Non so quando Io ti vengo a prendere con la macchina Vieni indietro in macchina Forse un po' meglio La mia la possiamo lasciare qua Non c'è problema Ma come funziona quindi ora? Con questo vanno su? No vanno su Perché adesso mi ha già caricato un po' Adesso vieni 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 Grazie Grazie per tutti Stai bene? Ok La sistemazione Vieni Vieni